Sono ripresi gli allenamenti in casa Taranto in vista del match contro il Campobasso programmato per il prossimo 9 gennaio. Il gruppo squadra rosso-blu come da prassi è stato sottoposto a tampone, ma fortunatamente gli esiti sono stati tutti negativi. Difficile ipotizzare se i diversi infortunati potranno già tornare arruolabili, ma la certezza è che sul fronte cartellini servirà la massima prudenza. Sia Giovinco che Civilleri, entrambi ammoniti a Torre del Greco, sono entrati in regime di diffida, ragion per cui al prossimo giallo scatterà per loro la squalifica. A quota 3 invece vi sono Saraniti, Zullo, Versiente e Chiorra. Anche loro perciò dovranno prestare la massima attenzione considerando che la quinta infrazione punita con l'ammunizione scatta in automatico un turno di stop. Il giudice sportivo inoltre ha combinato alla società una multa di 1000 euro per fatti contrari alle norme in materia di ordine e sicurezza, si legge nel comunicato, e per fatti violenti commessi dai sostenitori ionici integranti in pericolo per l'incolumità pubblica.